Salve a tutti ragazzi, oggi nuovo video e nuovo volo con il Mavic Air, destinazione fiumeata, più precisamente alla centrale idroelettrica Edison Bertini. Pensate che questa centrale idroelettrica è stata costruita nel 1895, quindi adesso andiamo a vedere come è una centrale idroelettrica di quegli anni. Non perdiamo altro tempo, destinazione centrale idroelettrica Bertini. Ok ragazzi siamo arrivati, siamo alla centrale idroelettrica Edison Bertini qua alle mie spalle, quindi adesso prepariamo il Mavic e voliamo! Grazie a tutti! Allora, allora, allora Grazie a tutti 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 Grazie a tutti